Idea web con Francesca Scola, palleggiatrice LPM Bamondo V, alla partenza della squadra per San Giovanni in Marignano, dove il Puma affronterà le padroni di casa in una nuova sfida della pool promozione. Francesca, facciamo però un passo indietro all'ultima sfida, quella con Macerata. Non è andata forse nel migliore dei modi, però ci sono ancora tante occasioni di riscatto? Ma sì, allora, mancano quattro partite e il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, come dico sempre, di vincerle tutte. Macerata è un avversario molto ossico e ci ha sempre messo in difficoltà, si è visto anche nella partita di Coppa Italia e nella partita da loro, che è stata un po' più combattuta avendo perso 3-2, però comunque ci hanno sempre messo in difficoltà. Sono una squadra molto compatta che difende tanto e hanno un attaccante lipsca che è veramente determinante su pall'alta, quindi anche quando sono in difficoltà comunque hanno una buona soluzione per risolvere i loro problemi. Noi forse potevamo essere un po' più precise anche perché abbiamo perso tutti i sette vantaggi, quindi vuol dire proprio che la differenza si fa sui dettagli. Però comunque secondo me non dobbiamo buttarci giù, anzi no, non secondo me, non dobbiamo buttarci giù perché mancano quattro partite, comunque siamo al secondo posto e è tutto ancora da vedere. Noi dobbiamo sempre pensare al nostro e appunto prendere tutti i punti possibili nelle quattro partite rimanenti. Adesso San Giovanni in Marignano, una trasferta contro una squadra che è ultima in classifica nella pool promozione, però a sua volta delle giocatrici piuttosto interessanti. Sì, allora come dico sempre la classifica non conta molto secondo me. Molte squadre hanno tante risorse indipendentemente dalla posizione in classifica, non deve trarre in inganno ecco. Sono una squadra molto compatta anche loro, con degli attaccanti magari con caratteristiche differenti da quelle di Macerata ma che comunque possono essere molto efficaci e determinanti, quindi dobbiamo giocare come sappiamo e provare a imporre il nostro gioco per portare a casa appunto la partita. Grazie mille.